...in senso grave, qui abbiamo ad esempio questa nazione, ne abbiamo già vista una di l'acqua e la colnero, ne abbiamo un'altra, già una di Naro, che rappresenta la marea nera, rientra nel filone della piattaforma, dicevo uno dei temi è la vita, la vita dei suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi, questa rappresenta la natura violata, l'uomo improfido che se non riesce a mettere mano ai disastri che provoca ne sarà travolto, cioè vedete che questo modo materico di rendere l'opera d'arte dà proprio questa sensazione di qualcosa che avanza, di qualcosa di minaccioso, che ci travolge, quindi è ottenuto non solo con questa forma di pittura-scultura, ma addirittura facendo uscire la materia dal quadro, quindi i colori in tutto, questa invasione danno a tutti e due un elemento di angoscia. Altri elementi che abbiamo...